Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole fra le stelle, sprinta e va, ma chi è, ma chi è, uforobo, uforobo, benissimo. Quelli della mia generazione non possono non conoscere questi versi e questa melodia che io ho intonato con le capacità vocali che mi sono proprie e non può non pensare a Goldrake. E noi parliamo di Goldrake, come ho anticipato in modo sibillino nel post che ho fatto sulla Community, ma non del robottone di Go Nagai, ma bensì di un personaggio omonimo, un curioso caso di omonimia, perché nei lontani anni Sessanta fece la sua incursione nell'edicole un personaggio che appunto si chiama Goldrake, che però guardava decisamente all'immaginario di James Bond e lo correggeva con una dose di erotismo ben più massiccia per non dire pornografia. Quindi affrontiamo uno dei innumerevoli personaggi nati su impulso della tentacolare mente di Renzo Barbieri, questo uomo di editoria così scaltro e capace per lunghi decenni della storia italiana di cogliere i gusti del pubblico, probabilmente coglierli al ribasso, coglierli per certi versi i gusti deteriori del pubblico, ma proprio per questo molto affascinante. Io ho avuto già modo di parlare di Renzo Barbieri nel video dedicato a Urula, una appunto delle sue innumerevoli creature, e qui per un fatto contingente, cioè il ritrovamento in un mercatino di ben cinque numeri di Goldrake, di cui vi mostro le bellissime copertine, ecco che mi è venuta voglia di fare un video su questo personaggio, un personaggio nato nel 1966, pare che gli ideatori, diciamo così, furono appunto Renzo Barbieri, editore poi della testata con la sua edifumetto, e Giorgio Cavedon, cui si unisce nella stesura dei testi Paolo Ghialardini, anche se inserirsi insomma nel ginepraio delle collaborazioni e delle reali paternità di soggetti e sceneggiature è assai difficile, se non impossibile, visto che poi questa, come altre testate, non presentavano i nomi degli autori, mentre graficamente il personaggio è stato ideato da Sandro Angiolini, attivissimo poi in questo genere di editoria, ma non solo. Io sfogliando questi albi, che non penso siano in termini grafici tutti della stessa mano, ho anche pensato, ma penso che avevo la febbre in quel momento, ho anche pensato che ci avesse messo mano Fernando Tacconi, ma chissà, ma non si sa mai, cioè mi era venuta così. Però ecco, non riuscendo, se non in modo così assolutamente approssimativo, a attribuire la paternità di disegni e sceneggiature, noi ci accontentiamo, insomma, di questi nomi che ho fatto, quindi Sandro Angiolini, per quanto riguarda proprio l'aspetto grafico del personaggio, e Barbieri, Cavedon, Ghialardini, come autori dei testi. Come, d'altra parte, si può vedere dalle copertine, e, perché no, dai disegni interni, ecco qui durante un'attività che gli è consona, ecco, Goldrake è ricalcato sulle fattezze di Jean-Paul Belmondo, quindi è il secondo eroe dei fumetti, dopo il ben più blasonato Blueberry, a ispirarsi a Jean-Paul Belmondo per quanto riguarda la fisionomia. Goldrake è un agente segreto, come dicevamo, nasce ripetendo e emulando l'immaginario di 007, e nelle sue avventure, tra l'altro, non è difficile imbattersi in un certo citazionismo anche spinto, che evidentemente all'epoca era possibile, perché, per esempio, in questo albo, Maria Perversidad, abbiamo un collaboratore di Goldrake che lo aiuta nell'indagine, che è proprio James Bond 007, lo si vede anche un po' dal volto vagamente assomigliante a quello di Sean Connery, quindi il personaggio di Bond viene preso, fatto diventare un agente della CIA, presumendo comunque che abbia il background dello stesso eroe creato da Ian Fleming, senza che nessuno trovi da ridire in termini di diritto d'autore. D'altra parte, una cosa che succede in questo fumetto e che succedeva anche in Zacki Mort, e questo è una cosa che avviene forse per risparmiare, far risparmiare tempo ai disegnatori, insomma, troviamo limitazione, o comunque il proprio ricalcare altri personaggi di altri fumetti. Chi ha visto il video dedicato a Zacki Mort, o chi se lo voglia riprendere, io mettevo in evidenza un fatto, cioè che alcuni personaggi secondari dell'albo erano identici a altri eroi dei fumetti, per esempio in quel numero in particolare si vedeva Rip Kirby e il suo maggiordomo Desmond, personaggi di Alex Raymond, riprodotti, ma ho trovato poi conforto in un articolo letto sul web, ma che adesso non ricordo dove, addirittura uno dei collaboratori di Zacki Mort, e cioè Leo, il Forfuto, è ricalcato sulle fattezze di Big Bang Bolt, fumetto americano, tra l'altro pubblicato dalla casa editrice Astorina, ma non allontaniamoci dal nostro Goldrake, perché proprio riferendomi a quanto appena detto, per esempio in questo volume qui, l'Affare Stanfield, ecco che abbiamo una donna, c'ho il sole davanti, non so se riesco a farla vedere, che è identica a Vampirella, cioè questa qua, in questa vignetta è proprio Vampirella riprodotta, voi vi chiederete perché fai un video col sole davanti, sono cazzi miei, è venuta così, e allora il discorso sui fumetti erotici, quelli con lo squalo in copertina, di cui comunque Goldrake è cugino, l'avevo chiaramente già affrontato con Urula, mettendo in rilievo da un lato la così ingenuità delle trame, che faceva il paio con la violenza estrema dei gesti, dei personaggi, e naturalmente l'esibizione pornografica proprio dei rapporti sessuali. Con Goldrake siamo, almeno con i numeri che ho potuto esaminare io, ma presumo che, visto che la serie si snoda tra il 1966 e il 1980, quindi un periodo molto lungo, parliamo di un personaggio che è stato molto in edicola, quindi ha venduto molto, e probabilmente ha anche un suo piccolo culto, immagino. Ora, dicevo, quindi è probabile che Goldrake si ferma un attimo prima in termini di esibizione dell'erotismo, ma riferendomi, lo ripeto ai numeri che ho letto io, che sono tutti databili tra il 71 e il 73, quindi non escludo che, con l'andare avanti delle pubblicazioni, si sia esplicitato proprio anche l'aspetto erotico, fino a diventare pornografico. Ma la cosa che a me ha colpito di questo fumetto, fatto salvo, quanto detto anche per Ulula, cioè ingenuità delle trame, violenza estrema, è che queste caratteristiche, che ho appena detto, qui sono decuplicate. Anche se la rozzezza degli snodi narrativi tiene conto, a mio avviso un minimo, anche della situazione geopolitica, quindi parliamo di una spy story che è comunque inserita nel suo tempo. Non è uno spionaggio del tutto fantastico come potremmo immaginarci, anche se, chiariamolo subito, non stiamo parlando sicuramente di John Le Carré, questo va detto. A colpire è il feroce anticomunismo di Goldrake, che per esempio in un albo come questo, esperta in massacro, è così pervasivo e velenoso, quasi da, non dico ridimensionare, ma da rendere forse meno, come dire, da riconoscere, non come si dovrebbe, la ferocia dei nazisti, perché qui abbiamo Goldrake che ha a che fare con un fantastico complotto nel cuore del Brasile, dove parrebbe che sia ancora vivo Adolf Hitler, e dico parrebbe perché questo è un albo inserito in una continuity che io in gran parte mi sono perso, e dove un ufficiale nazista loda Goldrake per la sua lotta alla Cina rossa. La Cina comunista, che torna per esempio in questo, la pagoda della morte, e qui un po' si gode, proprio per la, io direi proprio per la demenza della rappresentazione, no? Oltre a violenze inenarrabili che sadiche aguzzine compiono su sporvedute ragazze, e questo mi sembra un po' un must della serie, ecco che viene presentata una delle villain dell'albo, che qui vedete anche dei bassotti cui nel corso dell'albo verranno somministrati dei pezzi di prigionieri torturati, tipo la lingua, le dita, eccetera, eccetera, per non dire altre parti del corpo, e questo personaggio si chiama Grantoya, no? Ora, l'onomastica dei personaggi è abbastanza esilarante, perché in questo numero, per esempio, ci sono un uomo e una donna, due agenti cinesi, che si chiamano Chiavon e Tet Tin, che fanno quello che possiamo immaginarci, e quindi, insomma, è molto divertente tutto questo, ma così come si arriva a dei momenti divertenti e caricaturali, anche nella violenza dei personaggi, per esempio, questa Maria Perversitad e questa donna qui, questa bellissima dominatrix sudamericana, che come vedete ha dei metodi di interrogatorio abbastanza decisi, e tra l'altro alla sua merce cade anche il nostro Goldrake, se non che lei per torturarlo praticamente lo sottopone a una cura di Fellazio per togliergli l'energia, cioè ogni giorno pratica una Fellazio a Goldrake, quindi voglio dire non è andata neanche malissimo ecco, tra le varie torture che poteva avere, questo personaggio poi farà una fine tremenda perché viene, quando arrivano gli americani, arrivano i nostri a liberare Goldrake, la mettono sulle pale di un elicottero squartandola e poi l'albo si conclude proprio con un ufficiale che ah no, anzi, poi commenta Bond, il Bond di prima e Goldrake commentano Bond dice forse hanno fatto bene e Goldrake dice io direi che per una belva di quel calibro è stata una morte troppo dolce e gli aveva pure fatto la Fellazio, cioè proprio l'ingratitudine e poi nell'ultima pagina ecco un ufficiale che chiede a Goldrake e Bond vi dispiacerebbe testimoniare giù al comando di Caracas che una bomba ha colpito in piena Maria Perversidad ed il laniato in suo corpo certo colonnello ho visto una bomba farla pezzi anch'io non è rimasto neanche un ossicino dice quell'altro quindi proprio anche un bel elogio dell'omertà anche un fumetto educativo non c'è che dire e così sempre spigolando abbiamo anche un numero ambientato in Italia delitto ai Parioli e ultima cosa o quasi ultima che dico ma non penso che stupiera nessuno chiaramente oltre al violenza estrema e gratuita anticomunismo abbiamo anche una dose violentissima di omofobia infatti Goldrake esprime con tra l'altro battute da Trivio tutto il suo disprezzo verso gli omosessuali che sono raccontati naturalmente come così pervertiti esseri contro natura quasi si fermano un gradino prima dal diventare dei veri e propri mostri naturalmente però detto questo e presa col giusto distacco critico ci si diverte anche perché sempre nel numero ambientato in Cina c'è una scena dove Goldrake si trova in un bagno turco e quindi potete immaginare le battute insomma adesso non trovo comunque insomma siamo veramente oltre il pecoreccio oltre il pecoreccio e in tutto questo veramente io per esempio che sono critico verso le derive di come dire le derive paracensorie che spesso anche nella compagine progressista al quale mi onoro di appartenere insomma però fanno anche un pochettino sorridere se non girare i coglioni tornando indietro poi però ci si trova di fronte a questi questi monumenti questi elogi così alla più bieca reazione con una una sottolineature quasi criminali e allora ti dici veramente il come dire la la medietà dove è dove no però così al di là di tutto in realtà questo come come ho dimostrato già e che sa e lo sa chi ha visto i miei video diciamo io questa temperie chiamiamola così culturale la rimpiango anche per la soprattutto per la per la vastità di offerta ecco per la grande per lo spettro amplissimo di offerta che poteva trovarsi che poteva trovare davanti a sé un lettore Goldrake ma anche la stagione diciamo così dei fumetti erotico pornografici che parte con Isabella così controfigura se vogliamo dell'angelica interpretata da Michel Mercier e anche quello personaggio di Renzo Barbieri e poi dopo si chiude nei tardi anni 80 questo tipo di fumetto ecco in fondo nasce da una costola dei fumetti neri ne è una esasperazione ne è una come potremmo dire ne è una sì un'esasperazione un potenziamento anche anche a ribasso e visto che ho tra le mani i pocket originali potete immaginare che c'è anche come accadeva in diaboliche in criminal in sataniche in praticamente tutti quanti il con questo parterre di personaggi abbiamo anche un apparato redazionale molto ampio che non nega l'angolo della posta il mitico angolo della posta dove un popolo italiano così meno consapevole forse sotto alcuni punti di vista perché poi non è che noi italiani brilliamo per consapevolezza però insomma di quanto lo possa essere adesso scriveva alla testata ma soprattutto scriveva al proprio eroe quindi le lettere sono intestate a Goldrake io non so se siano lettere vere o finte perché da una vecchia volpe dell'editoria come Enzo Barbieri posso aspettarmi anche delle lettere finte pilotate però vale la pena secondo me chiudere questa mia breve carrellata su Goldrake con una lettera spedita a questa rubrica che si intitola L'attico del Playboy perché non l'ho detto finora ma lo dico adesso brevemente Goldrake ha come sottotitolo l'agente Playboy e diciamo così lo status di Playboy viene ribadito anche continuamente dalle didascalie insomma a un certo punto io qua ho trovato una lettera di un certo Rachelino di Salerno quindi nella Salerno del vediamo un po' del 1973 c'è questo questo è un album del febbraio del 73 no c'era questo Rachelino che non penso che abbia avuto una vita così facile se effettivamente è esistito calcolando il suo orientamento e calcolando l'anno in cui scrivevano e a Goldrake gli scrive questa cosa qua che mi fa piacere leggervi mio dolcissimo Goldrake no non è un errore di ortografia mi chiamo davvero Rachelino e sono un maschio almeno per l'anagrafe ma dentro di me mi sento tutta donna languida calda appassionata e soprattutto innamorata di te e della tua prorompente virilità se tu volessi ti farei provare gioie inimmaginabili sono di pelo rosso non soltanto nei capelli ma anche laggiù dove tu immagini non ho mammelle ma un corpo morbido e femminio occhi azzurri e bellissime lunghe gambe mi vuoi? adesso soprassedendo alla come dire a questa sintassi un po' slogata andiamo alla risposta di Goldrake caro caldo Rachelino alla mia collezione mancano i maschi e per di più di pelo rosso come te ma finché ci sono donne al mondo bionde brune o rosse con magnifiche tette e tutto il resto da femmina non vedo perché devo cambiare dato che la mia virilità è pienamente soddisfatta e ci è andato giù anche leggero visto come affronta l'argomento nelle sue avventure quindi questo era Goldrake di Barbieri Cavedon Ghellardini e Angiolini e spero così che questo video vi abbia divertito tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti